Bella a tutti ragazzi, oggi questo è un nuovo video dal vostro materno azzurro, oggi andiamo a fare le pagelle di Inter Sassuolo, merci che ci ha giocato ieri ragazzi, che abbiamo perso 2-1 contro i nero-verdi, che ormai, come siamo tutti, è la nostra besta nera, compreso Berardi. Come è stato un bel like, è una bella questione al canale, quello deve avere i 400 iscritti, siamo quasi ragazzi a 350, quindi vi ringrazio molto per il supporto che mi stai dando e condivido il video ovunque, per far arrivare comunque a questo grande obiettivo dei 400 iscritti. Allora ragazzi, il video è di non perdere i chiacchiari e partire subito. Partiamo dal portiere, Jan Sommer ragazzi ha guardato 5, 5 e mezzo, scusa 5 e mezzo, perché comunque diciamo che l'errore è fatto solo nel gol, perché comunque il gol è un suo errore, il gol di Beirani, però ragazzi c'è di dargli mezzo voto in più, perché comunque fa due grandi parate, una su Tojan e, ah no due, una su Tojan e Beirani nel primo tempo, una ragazzi nel secondo tempo e nel finale su Lavoriente che fa una parata pazzesca. Tio di Lavoriente nel secondo palo, con la mano di richiamo, non so come che cazzo di parata ha fatto Jan Sommer, a salvare dal 3 a 1. Però ragazzi l'errore del 1 a 1 che riapra la partita è veramente grave, però a fine 5 e mezzo secondo me, non voglio essere troppo cattivo. Darmian voto 5, perché comunque ha sofferto molto Lavoriente sulla corsia di destra e ha fatto molta, molta fatica, se sulla corsia di sinistra Lavoriente di destra Darmian, intendevo, e non è stato molto lucido, solitamente molto, molto più sicuro di sé, più lucido questa volta, anche ragazzi nel primo tempo ha rischiato molto su quello scivolato su Pinamonti, che era fallo netto, non si sa come l'arbitro abbia visto la palla e ha rischiato anche il rosso, un pochino in difficoltà secondo me, non molto concentrato, gli dò dato 5 questa volta. A Cerbi voto 6, alla fine ragazzi il suo rivale che doveva affrontare in questa gara, Pinamonti, lo ha arginato in maniera abbastanza semplice, qualche volta, ragazzi, Pinamonti è venuto a giocare palla più indietro, a smistare, comunque a Cerbi lì non c'entrava niente, quando invece ha dovuto fare uno contro uno, è stato sempre molto pulito, a Cerbi non ha sbagliato praticamente nulla, nel finale ha scioglato anche il gol del 2-2 finale, alla fine però non è riuscito a segnare, comunque un 6 secondo me ce lo porta a casa, alla fine non ha fatto sbagliature importanti. Bastoni voto 5, una partita in cui ha giocato un po' in modo sufficiente, 2-3 partite che lo vedo un pochino troppo sicuro, la sicurezza va bene, però in quella zona di campo lì, in zona rossa, bisogna essere più concentrati. Un po' mollo, visto che il suo primo gol nasce comunque dalla sua parte, il secondo ragazzi, sbaglia anche lui, perché comunque, secondo me, sul primo sbaglia, sul secondo no, però sul primo sì, perché è solo lì, è solo. Poi ragazzi liberarli su quella corsia, fa praticamente quello che vuole, soprattutto nel secondo tempo, nel secondo tempo è buono, il secondo ragazzi non si soppone neanche mai, ha fatto veramente tanta fatica, forse un po' stanco, doveva riposare, comunque 5, non mi è piaciuto Bastoni, per niente. Dumfries, voto 7, migliore in campo in assoluto, oltre al gol ha fatto una grande partita, secondo me, di corsa, di grande costanza sulla fascia, di tornaviene, tornaviene, ha fatto una gara di grandissimo sacrificio, contro comunque Laurentet, un cliente scomodo, lui secondo me ha fatto molto molto bene, gol veramente bellissimo, perché punta vigna, invece di andare sul destro, che ci viene preferito, sterza sul sinistro, e poi sinistro ragazzi, a fil di palo all'angolino, bellissimo, un gol bellissimo, però ragazzi non è bastato, comunque un Dumfries, uno dei giocatori più in forma della squadra da inizio anno, ha fatto un'ottima partita, voto 7. Barella, voto 5, Barella ha avuto un'involuzione incredibile in questa stagione, secondo me, non ha mai fatto una prestazione veramente top, neanche nel derby è stato uno dei peggiori, quel 5-1, un Barella che mi sta deludendo, un Barella sotto tono, che non riesce ragazzi a dare la sensazione di essere un top player quest'anno, ha fatto molto bene il Salonogo di Michetana quest'anno di Barella, è veramente un paradosso, speriamo ragazzi che si riprenda, però anche ieri è malissimo, c'è un sacco di passaggi, molto nervoso, non riesce comunque a dare quella qualità che era lo scorso anno, quei giocati incredibili, quei gol pazzeschi, Barella in difficoltà, voto 5, con il centro campo del verde. Salonogo, voto 6, ha giocato in mediana, in regia, una sfida abbastanza pulita, ha fatto un errore pazzesco al primo tempo, dove sta veramente regalando un gol a Baerami, dove è stato molto bravo Sommer, però ragazzi, a parte quell'errore, non ha fatto nulla di sbagliato, ha giocato bene, ha rettato i tempi come sa fare lui, forse negli ultimi 20 minuti anche lui un po' sfinito, però ci sta, la soffigenza però sa la porta a casa. Mkhitaryan ha voto 5, Mkhitaryan ha sbagliato, ha sbagliato, si era un po' troppo, forse una stanchezza, un po' impreciso, poi sul gol di Berardi, lì ragazzi, devi essere più cattivo, gli fai fallo, gli prendi la palla o gli devi fare qualcosa, non puoi far tirare così indisturbato, soprattutto ragazzi dalle esperienze che ha Armino, quindi ragazzi soprattutto sul gol, il voto è 5. Di Marco, voto 5,5, stanco anche lui, non capisco perché Carlos Augusto non può giocare a titolare, a Salerno, spero che di Carlos Augusto, Di Marco è ragazzi in difficoltà fisiche, penso che è molto, molto stanco, deve riposare, abbiamo visto le scorribande, non ne ha fatti praticamente mai, perché comunque non riusciva proprio fisicamente, dalla sua parte il problema di Berardi che comunque spinge molto, quindi doveva stare anche più indietro come il suo solito, e il suo aggio d'azione non era molto pericoloso, possiamo dire, perché doveva stare molto più indietro, 5,5 quindi. Turan voto 6, alla fine ragazzi fa la sua gara, sul gol di Dufus comunque lui che la tocca per l'olandese, fa la sua gara sporca, ha giocato tanti palloni, soprattutto nel primo tempo ha fatto una giocata pazzesca di fisicità sul difensore che gli è andato via, però ragazzi comunque non so se lo porta a casa. Lautaro voto 4,5, Lautaro peggiore in campo in assoluto, praticamente ragazzi avulso possiamo dire, cioè gioca bene con la squadra, però ragazzi non c'è da finalizzare lì, si vede che in queste ultime due o tre partite non è mai stato cattivo, quella cattiveria sottoporta delle prime partite, comunque giocare come nelle prime partite è impossibile, perché ha fatto veramente dei straccelli, però in questo momento non lo vedo lucido per niente, soprattutto anche nell'ultima azione si mette 80 minuti per spostarsi sul mancino e tirare, ragazzi deve essere più veloce, un giocatore che è stanco deve assolutamente riposare, però ragazzi non c'è bella alternativa, a questo punto devi mettere Mkhitaryan a seconda punta e Turan punta, perché ragazzi Lautaro non può giocare tutte così, 4,5 peggiore in campo. Cambi ragazzi, defra i voto 6, entra, partita di amministrazione abbastanza semplice per l'olandese che ovviamente nel finale era tutta sedio l'Inter, quindi comunque a sufficienza la prende. Come Carlo Salgusto, 6 fa un'invocata bellissima per il frattesimo, però ragazzi si spreca e poi comunque la costanza, la corte sulla fascia c'è, quindi 6. Frattesimo voto 5, entra e si mangia quel gol incredibile sull'invenzione pazzesca di Carlo Salgusto, poi l'ho visto molto molle quando è entrato, nei contrasti non andava deciso, non andava cattivo, ho visto un frattesimo che non mi è piaciuto, voto 5. Sanchez voto 4, il disastro più totale che con Lautaro peggiore entra, ma veramente fa tutti quei giochini del cazzo, non vince un duello, dà la spinta su quel calcio di rigore poi che sarebbe stato assegnato all'enera azzurri, veramente è un giocatore che non può giocare solamente nell'Inter secondo me, l'abbiamo visto proprio in questa partita, forte ma che non può essere neanche la prima riserva ragazzi, dobbiamo dire la verità. 4. Classico senza voto, gioca gli ultimi 5 minuti, ma non tanto per prendere il voto. Inzaghi voto 5, non voglio essere troppo servito perché comunque gli errori sono anche lui, suoi, perché ragazzi toglie Turam nel finale per mettere Sanchez, ma gioca con 3 punte, sì ci sta, però ragazzi alla fine i suoi non riescono a concretizzare, a giocare benissimo, è un po' la stanchezza, deve fare più cambi, sì, infatti ragazzi do 5, però meno non mi ha seguito di dargli, perché al fine le responsabilità ci sono, ma neanche troppe. Dionisi voto 9, ragazzi è venuto al primo in classifico, una scuola che sembra imbattibile, ha giocato il suo calcio, ha strammettato l'Inter, ha sfiorato più volte il 3-1 Sassuola come ho detto ieri che il 2-2 l'Inter, quindi ragazzi questo è tutto dire, Dionisi ha fatto veramente un capolavoro, voto 9. Migliorno Sassuola ha detto Berardi senza dubbio, voto 8, in cui veramente, soprattutto nel secondo tempo ha dato spazi di fuoriclasse totale, un dottore imprendibile che ha fatto veramente piangere, diciamo, di vari dimarco, bastoni che erano sulla sua fascia. E Pezzo Levigna, che è un giocatore ragazzi scarso, che poi nel primo tempo è sua, la responsabilità di aver fatto tirare Dumfries, e comunque la spinta è poca, difesa anche poca roba, il senso sinistro del Sassuola è uno dei punti deboli, secondo me, di questa squadra. Questo ragazzi è il mio video, sono le mie pagelle, fatevi sapere questo delle vostre pagelle al prossimo video.